Questo programma è offerto da Autopuglia, concessionaria Peugeot, via Zipitelli 2, Bari, Leone d'Oro, birrificio del Levante, Università LUM, Jean Monnet. Sangue e sudore è quanto hanno chiesto i seguaci della Nord giunti qui a Roccaporena per incitare i propri ragazzi. E Davide Nicola ha promesso proprio quelle due parole, sangue e sudore, in attesa della partita del pomeriggio tra Bari A e Bari B, qui sul campo di Roccaporena. Noi vogliamo gente che lotta! Noi vogliamo gente che lotta! Noi vogliamo gente che lotta!